Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Stanotte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in entrata in direzione Roma. Spostandoci sulla Fisbili, code per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per quanto riguarda gli autobus, indetto per oggi uno sciopero di 24 ore. I bus di autoline toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!